Sette buoni quattro anni, quarta, miglio, arretrato, rasseldete, inizia a prendere velocità la macchina. Con cautela anche il quattro Romguasimo. C'è lotta la chiusura con Rebus che cerca di mantenere i birilli all'attacco della piegata. A largo right leader e a largo di tutti vediamo Rasputin che cerca di scavalcare l'avversario. Gli rientra bene, tredici e due il lancio. È chiaro che Rebus corre al comando, si deve adeguare il buon Marucci in cerca di una posizione. 28.6.400 e ora lunga fila indiana con Rebus che amministra il vantaggio e cerca di graduare. 600 iniziali nell'ordine del 44.3 e cavalli che affrontano la penultima curva. Con Romguasimo che prende la via del largo anticipato da right leader. E il Conway Hall del Caterpillar va a completare il mezzo miglio in 1.1 meno un battito. Cavalli che affrontano il penultimo rettilineo. Non ci sono variazioni sostanziali. Rebus, Wright, Rom, Rasputin. Chilometro in 16.1, 15.2 di frazione. 500 alla meta. Si distende il Conway Hall, pedinato come un ombra da right leader LF. Frazione in 14.9, 1.31 e i tre quarti di miglio. Rebus, Wright, viene via Rom, Guasimo. Galoppa, Rasseldete. Retta d'arrivo con Rebus degli dei che allunga. Ma si ingamba Rom, Guasimo. Rom, Guasimo va a cazzo di Rebus. Rebus in vantaggio. Ci prova Rom. Rom si avvicina. Rom, Guasimo stampa l'avversario. Terzo in numero tre, Wright, leader LF. Due minuti e qualche spicciolo. Cresce, cresce. Come cresce questo targato Guasimo. Massimo Finette al training, il ragioniere alla guida. Questo Naglou decisamente sta scalando le categorie. Fa tutto quel che può il buon Rebus e porta a casa una seconda moneta. Tutto sommato, di là da venire, più che buona. Rom, Guasimo, cresce, cresce e come cresce. Totalizzatore che borbotta. Due novantasei. Linea alla regia.